Io adoro quando le aziende cinesi o roba del genere mi contattano per provare i loro telefoni perché non si sa mai che cosa arriva e soprattutto si vedono le foto ma non si sa mai se corrispondano o meno alla realtà. Ecco, questo è proprio il caso del telefono che mi è arrivato ieri e ho detto no, no, io lo devo subito portare sul canale perché devo portare la mia reazione live a questo smartphone. E quindi questo è una specie di video unboxing, una specie di videorecensione anche se appunto non l'ho provato veramente questo smartphone ma ve lo voglio far vedere comunque, ma ne parliamo subito dopo la sigla. E ben ritrovati sul mio canale, ancora una volta un saluto da Simone Per farvi capire di che smartphone stiamo parlando vi do qualche dato Lo smartphone in questione arriva dall'azienda Okitel Come? Non ne avete sentito mai parlare? Non è un problema vostro, è proprio che da noi non se ne parla mai eppure è abbastanza famosa in Cina se non una delle più famose Ma comunque per farvi capire, allora questo qua è un iPhone 5S, ok? Ok, beh, questo è un iPhone 5S Questo è l'Okitel K7 Questo qua, questo, questo mattone allucinante è l'Okitel K7 E che cosa ha di così strano questo smartphone? A parte il peso, per farvi capire Questo smartphone pesa all'incirca 100 grammi Un S9 ne pesa all'incirca 160 Lui ne pesa 310 310 310 Il doppio Cioè se prendete 2S9 arrivate al peso di questo Che però io inizierei ad accendere così Tanto per iniziare anche a parlarvi di altre robe oltre all'estetica E voi direte, ma perché diamine pesa così tanto? Perché ha una batteria strana questo smartphone? Infatti io ho scelto Quando mi hanno detto, no no te lo vogliamo far provare vive viva Ho detto, ok subito Perché ha una peculiarità La batteria da 10.000 milliampere 10.000 milliampere 10.000 Questo non arriva neanche a 1.500 Questo ne è 10.000 10.000 È stato lanciato sul mercato i primi di giugno Spero non letteralmente Perché se lanciate questo qua sul mercato Probabilmente il mercato muore Perché viene distrutta qualsiasi cosa da questo mattone che viene lanciato Potrebbe essere tranquillamente utilizzato alle Olimpiadi per il lancio del peso senza alcun problema E nessuno si accorgerebbe della differenza tra il peso e questo qua Punto davvero doloroso è il fatto che c'è un processore Mediatek a muovere questo smartphone Questo mattoncino Questo pezzo di casa Stiamo parlando dell'MT6650T Che è più un codice fiscale Che è un processore Comunque un octa-core da 1.5 GHz Allora io l'ho acceso L'ho già configurato un pochettino Ho già messo anche l'impronta digitale Alle gesture rapide oltretutto Con l'impronta Cosa molto importante La fotocamera è doppia Anche se non serve per sfocare Visto che l'effetto Guardate qua che cosa fa È la cosa più terrificante che abbia mai visto in tutta la mia vita Senza proprio pensarci due volte Mamma che cos'è questo effetto sfocato Cosa cavolo sto vedendo Aiuto Ma la fotocamera è da 13 megapixel E perché sto ridendo Perché mi sono appena reso conto Che al fianco della fotocamera C'è una scritta 2018 Così Perché gli andavo a sottolineare il fatto Che siamo nel 2018 E niente Hanno scritto 2018 Poi è pieno pieno di viti Vitine dappertutto Da svitare col cacciavite a stella Anche se non so perché sia pieno di così tante viti a vista Davvero ragazzi Io ne ho già contato 10 Ma ce ne sono anche di più oltretutto E non chiedetemi perché lo volevano fare più grezzo Più qualcosa del genere Lo è già Lo è già Tranquilli Anche perché con questo retro in finta pelle Dicendo Eh caspita Così sembra veramente uno smartphone Lamborghini Con questi dettagli Oro Tutto nero Con la pelle Lamborghini Proprio Sì ma una venta d'oro proprio intera È questo smartphone Da quanto è pesante Ma scherzi a parte Lo schermo è anche abbastanza grande Oltretutto È in 18 noni In 2160x1080 Quindi Full HD Plus Con 402 ppi Infatti il display Devo dire che è la cosa più bella Che per ora ho visto su questo smartphone E la seconda cosa È il fatto che monta Oreo Oreo 8.1 Quindi alla fine Non è che sia così tanto male Vorrei più che altro capire Se ha senso E soprattutto se si riesce a muovere Decentemente con questa CPU Cosa che dubito Visto che Mediatek Non è proprio sinonimo di prestazioni al top Ma ne parleremo probabilmente In un video a parte Per concludere Il discorso sul display È un IPS Ed è da 6 pollici E devo dire che si nota Come si nota anche il fatto che E non credo che sia un effetto ottico O comunque un qualcosa Che sto notando soltanto io Ma le casse sotto sono Non sono simmetriche Non sono simmetriche La cosa mi sta dando un fastidio allucinante Perché sono leggermente spostate a sinistra E la cosa mi sta irritando Proprio tantissimo Ma questa è ovviamente una feature Una feature per mantenere allenati i vostri occhi In modo tale che capiscano sempre bene La prospettiva La percezione proprio degli spazi Insomma È una cosa fatta apposta Come altrimenti non è neanche simmetrica Alla porta micro usb Visto che è più in basso E soprattutto è leggermente storta Rispetto agli speaker Oh mio dio Oh mio dio Che disastro Però arriva direttamente con una pellicola In vetro temperato montata Che è una cosa ottima Visto che io non so montare le pellicole Quindi Ok Anche se tipo Io non voglio le pellicole Sui miei telefoni Quindi Potrei anche tranquillamente Levarla senza problema Ma dettagli E nulla ragazzi Per il resto io sto continuando A guardare questo smartphone Cercando di capire il senso A parte appunto Il fatto di essere un powerbank portatile Con un display Perché Boh Vabbè Per il prezzo che ha Sembra anche decente Però ripeto Lo voglio provare più che altro Come prestazioni Perché secondo me Con la piattaforma Mediatek E niente ragazzi Io volevo subito farvi vedere questo smartphone Perché davvero Cioè Non potevo esimermi Dal farvi vedere il prima possibile Perché io Come l'ho visto Ho riso troppo Più che altro perché Pensate a me Io ho visto Queste foto qua E ho detto No che figo Esteticamente È una bomba Allucinante Nessuno ci aveva ancora Fatto dei video E ora capisco perché Ma no no Volevo dire perché Non è ancora arrivato in Italia No Più o meno E quindi ho detto No no Sembra fighissimo Sembra un Lamborghini phone Ve lo ricordate Quello smartphone Lamborghini Troppo bellino Troppo stiloso Tutti quanti volevano Sembrava troppo quello Quindi ho detto No no Lo voglio subito Lo voglio provare subito E poi L'ho tolto dalla scatola E ho visto questo E niente Io ho riso Per almeno 20 minuti Per poi piangere Per dire Oh cavolo Ci devo davvero fare un video Su questa cosa Io come faccio Ma niente Una volta Un saluto Da Simone E da Lokitel K7 Ciao 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 Ciao